Io sono Jonathan Bazzi, sono uno scrittore e sono sieropositivo e durante questo periodo appunto di allarme per il coronavirus ho attraversato alcuni momenti piuttosto difficili, soprattutto perché all'inizio, appunto i primissimi giorni e le prime settimane, quando ancora le notizie in circolo erano poche, pochissime, non sapevo se in qualche modo appunto la mia sieropositività potesse costituire un elemento di rischio, di aumento del rischio. Quello che comunque mi è successo è che a un certo punto io mi sono sentito come riportato indietro nel tempo perché mi è arrivata una febbre che non scendeva con la tachipirina, questa febbre mi è passata, io non sono in grado, ho chiesto sia al mio medico di base che al mio infettivologo, ho fatto presente i miei sintomi, ma come sempre ti viene detto in questi casi, se non hai dei sintomi, una sintomatologia respiratoria, insomma stai a casa, ti viene detto di non uscire, però non ti viene fatto il tampone per esempio. Quello che poi ora mi è successo e che dura ancora adesso è questa scomparsa del gusto e dell'olfatto che i vari esperti, i vari medici stanno notando come questo pare essere un sintomo frequente, un postumo diciamo. Che consiglio puoi dare a chi si trova nella tua stessa condizione di sieropositività? Per le persone sieropositive in terapia con una situazione immunitaria ristabilita, quindi tranquilla, non c'è un elemento di rischio ulteriore rispetto a quello della popolazione sieronegativa. Se una persona ha meno di 500 CD4, ecco ci possono essere dei rischi perché il sistema immunitario non è sufficientemente solido. Sicuramente una cosa fondamentale è avere consapevolezza anche e soprattutto per le persone che convivono con il virus dell'HIV, avere consapevolezza dello stato del proprio sistema immunitario. Credo sia anche giusto tranquillizzare perché io ho sperimentato una certa confusione e anche una agitazione per il fatto che pensavo che l'essere sieropositivo automaticamente comportasse un certo indebolimento del sistema immunitario. Poi appunto con i primi pareri che hanno cominciato a circolare mi sono accorto che così non è. Quindi se una persona è in cura con la tiremia azzerata e con un quantitativo di CD4 superiore a 500 deve attenersi comunque a quelle che sono le disposizioni che valgono per tutti, però non c'è un elemento di rischio ulteriore. Diverso è per quelle persone che sono anche magari in terapia da tempo ma che per motivi vari ed eventuali hanno comunque un sistema immunitario non particolarmente solido e affidabile oppure appunto quelle persone che hanno un'età avanzata o ulteriori patologie. In quel caso sicuramente una fragilità c'è. Questi sono tutti degli aspetti che devono portare assolutamente a evitare i contatti, quindi a rimanere seriamente e radicalmente a casa.